benvenuti in un nuovo video di quadricottero news domani dji presenterà un nuovo drone questo è il teaser presenterà domani alle ore 15 ma noi sappiamo già di cosa si tratta infatti presenterà il nuovo mavic 3 pro e questo teaser la dice lunga sulla caratteristica o almeno una delle caratteristiche principali che rendono pro questo drone significativo anche lo slogan l'ispirazione sempre a fuoco grazie ad alcune anticipazioni che sono state pubblicate in rete su twitter e su altri social da vari account in particolare ad esempio da quadro news che sembra quadricottero news ma invece non sono io possiamo capire perché questo drone è considerato pro rispetto al mavic 3 in attesa di domani dove scopriremo tutte le caratteristiche complete ma oggi possiamo già sapere quali sono le caratteristiche fondamentali che differenziano questo drone rispetto al mavic 3 e scopriremo anche se ha la marcatura di classe del regolamento europeo droni inoltre parleremo delle regole d'uso in relazione all'eventuale sua marcatura o non marcatura e vedremo a quali prezzi sarà venduto a livello di telaio sembra essere uguale al mavic 3 cambia l'oggetto del teaser ovvero il gimbal camera che ora ospita ben tre camere e lo slogan del teaser l'ispirazione sempre a fuoco fa capire di cosa si tratta e grazie alla fuga di notizie anticipata ne abbiamo anche la certezza la camera principale asser blood del mavic 3 pro è sostanzialmente uguale a quella che è presente sul mavic 3 attuale e cioè una camera asser blood da 4 terzi 20 megapixel 24 mm equivalente apertura variabile f 2.8 f11 nuova invece la camera da 70 mm equivalenti quasi da un pollice alle stesse dimensioni di quella del mini 3 pro ha uno zoom ottico da 3 per definizione 48 megapixel quindi sembra proprio essere quella in dotazione al mini 3 pro f 2.8 la camera tele è simile a quella presente sul mavic 3 e quindi uno zoom ottico 7 per zoom ibrido 28 per tuttavia è da 166 millimetri equivalenti mentre quella sul mavic 3 è da 162 millimetri ed è f 3.4 mentre quella sul mavic 3 è f 4.4 da queste caratteristiche si può pensare che il mavic 3 pro e pro è diventato pro per quanto riguarda la definizione dell'immagine in particolare quando si fa lo zoom infatti col mavic 3 quando si fa uno zoom che si supera il 3 per l'immagine degrada molto fino arrivare al 7 per dove recupera qualità perché a 7 per c'è uno zoom ottico mentre da 3 per fino a 7 per lo zoom è digitale e perde e c'è questa c'è questo degrado con l'inserimento di questa nuova camera intermedia da 3 per ottico e la qualità resta dovrebbe restare uniforme almeno fino a 7 per e anche un pochino oltre perché comunque la camera tele sembra essere leggermente diversa probabilmente ha un sensore diverso credo ma lo vedremo domani in linea generale comunque questa versione pro dovrebbe avere una migliore qualità immagine in qualsiasi modalità di zoom quindi mentre il mavic 3 attuale permette una qualità decente a 1 per 2 per e anche 7 per in alcuni casi perché è ottico il mavic 3 pro avrà una migliore possibilità di sfruttare ingrandimenti superiori al 2 per mantenendo una qualità sufficiente per produrre dei video magari non cinematografici però dei video decenti c'è anche la versione cine quindi con la possibilità di registrare in pro res questo è il prezzo della versione cine premium combo dovrebbe essere questo 4800 euro con radiocomando rc pro la versione non cine però fly more combo con il dj rc pro costerà 3680 euro circa e questo è il prezzo della versione normale però fly more combo quindi con 3 batterie radiocomando rc non rc pro costerà 2940 euro circa se questi prezzi saranno confermati ma dovrebbero essere questi la versione con una batteria ma abbinata al dj rc costerà circa 2200 euro e poi c'è questa versione che dovrebbe essere solo drone senza radiocomando circa 1800 euro quindi da capire se verrà venduta anche una versione col dj rc n1 e se non verrà venduta col dj rc n1 resta da capire se sarà compatibile col dj rc n1 e quindi con uno smartphone per chi vuole utilizzare uno smartphone tra l'altro dj rc n1 serve anche molti lo usano per fare l'hfcc con l'app gratuita anche se dal punto di vista legale in europa non si può lo scopriremo domani nel frattempo vediamo se questo drone ha la marcatura di classe del regolamento europeo e quale marcatura ha vediamo se questa foto ci permette di scoprirlo ruotiamola e ingrandiamo l'etichetta vediamo 82 decibel di rumore e in alto 16 più quindi da 16 anni in poi si può utilizzare questo drone dal punto di vista del produttore e se ingrandiamo ulteriormente ecco vediamo che ha la marcatura c2 il marchio c2 del regolamento europeo droni questo significa che il gimbal più pesante fa pesare questo drone più di 900 grammi e quindi non può essere marcato c1 come invece è marcato il mavic 3 e il mavic 3 classic il mavic 3 pro è marcato c2 e questo alcune conseguenze infatti il mavic 3 classic e il mavic 3 avendo la marcatura c1 del regolamento europeo si possono utilizzare con condizioni operative più agevolate rispetto al mavic 3 pro perché in c1 le operazioni devono essere condotte in modo in cui ragionevolmente non ci si aspetta il sorvolo di persone non informate se accade bisogna minimizzare i tempi di sorvolo quindi normalmente non si possono sorvolare persone non informate se accade dobbiamo minimizzare i tempi di sorvolo non ci sono distanze minime a mantenere si può utilizzare in scenari urbani non ci sono problemi se si rispettano queste condizioni quindi il mavic 3 e mavic 3 classiche hanno queste agevolazioni tra l'altro richiedono soltanto il cosiddetto patentino a1 a3 con le regole a1 che sono queste il mavic 3 pro essendo un c2 può comunque essere condotto anche nel 2024 perché appunto al c2 quindi con le stesse regole però ha delle regole un po più stringenti rispetto al c1 perché con un c2 bisogna mantenere una distanza minima di almeno 30 metri dalle persone non informate oppure di almeno 5 metri se attiva la modalità a bassa velocità e il mavic 3 ha la modalità a bassa velocità tra l'altro si può anche regolare quindi si può anche settare un metro al secondo due metri al secondo e via dicendo rispettando la condizione del regolamento europeo droni quindi con questa modalità e si può utilizzare fino a 5 metri dalle persone non informate questo è quello che è scritto nel regolamento 947 quindi fa fede questo nelle linee guida e nei metodi accettabili di conformità viene indicata anche la regola 1 a 1 e cioè dobbiamo mantenere una distanza dalle persone non informate pari all'altezza del drone non inferiore all'altezza del drone così se facciamo volare il drone a 30 metri d'altezza dobbiamo mantenere almeno 30 metri di distanza ma è una regola che non è scritta nel regolamento ma nei metodi accettabili di conformità e linee guida cioè se noi la seguiamo siamo sicuri di stare rispettando il regolamento ma non è proprio obbligatorio rispettarla stando alla lettera diciamo che è fortemente consigliato però ci vuole l'attestato a2 e in questo senso è pro perché richiede al suo pilota di conseguire l'attestato a2 niente di drammatico si tratta di 30 domande aggiuntive rispetto alle 40 domande dell'attestato a1 a3 che si fa online la 2 però se lo facciamo in italia dobbiamo recarci presso un centro di addestramento mentre se ci rivolgiamo all'estero possiamo farlo anche in modalità online ma sorvegliata comunque il mavic 3 pro potrà essere utilizzato anche in scenari urbani rispettando queste condizioni quindi condizioni un po più stringenti rispetto al mavic 3 ovviamente scenari urbani se la zona geografica us lo permette bisogna ricordarsi sempre che dobbiamo rispettare le zone geografiche us riportate su di flight volendo però il mavic 3 pro si può condurre anche se abbiamo soltanto l'attestato a1 a3 in questo caso dobbiamo rispettare le regole a3 le stesse regole che dobbiamo rispettare per i droni senza marcatura fino a 25 kg se pesano più di 249 grammi nel 2024 se sono senza marcatura e finiscono tutti in a3 quindi dobbiamo condurre il drone in un'area in cui ragionevolmente non ci aspettiamo la presenza di persone non informate in ogni caso la marcatura c2 resta più conveniente dal punto di vista operativo normativo rispetto agli scenari standard europei e anche italiani infatti se non dobbiamo operare con il drone in vicinanza delle piste aeroportuali nelle zone rosse aeroportuali e se non dobbiamo superare le altezze massime la categoria c2 è più vantaggiosa perché i scenari standard richiedono di istituire l'area di contingenza l'area di buffer non ci deve essere nessuna persona nell'area in tutta l'area operativa a seconda del peso dobbiamo installare un terminatore bisogna redigere manuali manuali e dobbiamo l'operatore deve redigere il piano di risposta alle emergenze erpe e via dicendo insomma un sacco di incombenze in più che con un c2 non abbiamo e più con un c2 riusciamo ad avvicinarsi fino a 5 metri alle persone non informate con i scenari standard non è possibile questa cosa e così abbiamo visto i motivi per cui il mavic 3 pro è considerato pro rispetto al mavic 3 e abbiamo visto le cose fondamentali domani vedremo tutte le caratteristiche di questo drone e le differenze complete rispetto al mavic 3 nel frattempo voglio sapere cosa ne pensate di questo drone dei prezzi e di queste considerazioni anche in relazione alla marcatura c2 invece che c1 fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale se lo avete ancora fatto vi do appuntamento con il prossimo video di quadricottero news e vi auguro una buona continuazione a un buon 25 aprile ciao a tutti